carissime amiche e carissimi amici di facebook buona serata è il vostro influencer incantatore di serpenti ammaestratore di tigri e capo popolo andrea colombini che torna a ringraziarvi per le tante decine di migliaia di visualizzazioni per i like per tutto quanto mi sono rotto le palle di livello tutte le volte ma ve lo dico volentieri perché siete amici grazie perché ci siamo amici e perché siamo leoni in branco stasera ve l'ho detto sono incazzato tranquillo come sempre sempre disposto a ridere anche se da ridere non c'è più veramente niente però sono incazzato sono incazzato come cittadino sono incazzato come patriota sono incazzato come italiano sono incazzato come uno come voi e dico incazzato volentieri non incavolato che altro perché incazzato rende bene l'idea per quello che sta succedendo innanzitutto lo specifico subito draghi e lo metto come punto di partenza draghi non è un personaggio simpatico non mi sta simpatico sappiamo chi è sappiamo di chi difende di interessi poi ci sono vari commenti cosa somiglia che può somigliare qualche bestia quello che gli pare non me ne frega nulla draghi quello che ha fatto non mi sta simpatico oltretutto è un personaggio di cui sappiamo esattamente i trascorsi abbiamo visto ciò che ha fatto è collega di mario monti di conseguenza è tutta gente che per me per voi per il nostro sceto non gioca indi per cui bisogna essere classisti e capire che questa persona sicuramente non gioca almeno sulla carta notare quello che vi sto dicendo almeno sulla carta per gli interessi del popolo italiano per gli interessi miei e vostri indi per cui sentirlo incaricato di creare un nuovo governo e ovviamente voglio vedere come faranno molti che l'hanno schifato pubblicamente fino a oggi a dargli il consenso a dire avanti tutta beh io sono rimasto molto male di questa scelta però ripeto tutta questa scelta dipende da un intervento che è stato fatto ieri sera che credo che abbia sentito l'intervento ovviamente lo dico con il massimo rispetto è quello del capo dello stato l'onorevole mattarella non mi ricordo nemmeno come si chiama mattarella il capo dello stato il quale ieri sera ha fatto un intervento di cinque minuti in cinque minuti ho ascoltato tante cose poi ho anche riletto tutto il testo me lo sono fatto dare ovviamente tutto il testo l'ho studiato l'ho guardato l'ho riguardato l'ho studiato segnato le frasi e le parole io ho otto domande da fare a mattarella sono otto domande io le chiamo domande perché un'altra persona magari avrebbe potuto dire io avrei otto balle che il presidente mattarella secondo me ha detto nel suo discorso ma io non dico che sono balle io sono domande che devo fare al capo dello stato se mi ascolta se qualcuno mi ascolta se qualcuno particolarmente affezionato alle istituzioni mi ascolta e vuole ascoltare quello che dico ci sono delle cose che ha detto il capo dello stato a cui io chiedo spiegazioni innanzitutto il capo dello stato ha parlato di grave emergenza sanitaria prego 399 morti 400 oggi sono una grave emergenza sanitaria no è una balla e l'abbiamo detto tutti perché l'emergenza sanitaria non c'è se non in quegli ospedali che non ci hanno avuto in certi momenti le terapie intensive e ci sono migliaia di dottori che stanno dicendo nota bene migliaia di dottori che stanno dicendo su mediaset no a casa di andrea colombini che le terapie in ospedale erano inutili e non soltanto erano inutili hanno ammazzato decine di migliaia di persone si sta parlando di strage di massa voluta non voluta colposa o volontaria questo stanno dicendo migliaia di dottori le cui lauree valgono quanto quelle di ricciardi e crisanti e compagnia cantante dunque questa è la prima domanda che devo fare al capo dello stato è sicuro che ci sia un'emergenza sanitaria ma questa emergenza sanitaria ma siamo convinti ma lo sappiamo ma veramente vogliamo insistere a prenderci per il culo a dire che questa emergenza sanitaria pandemia va bene l'ha detto il capo dello stato io lo chiede a lui ovviamente poi lunga campagna elettorale e poi dice due mesi ora abbiate pazienza sono 12 mesi che strasciniamo questa situazione e ci stiamo a lograre perché ci sono due mesi eventualmente di campagna elettorale e poi ci vogliono 20 giorni per creare gli uffici di presidenza e tutto il resto ho capito ma questa è la cosa più sacra che esiste in un paese democratico come l'italia la democrazia l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione questo è l'articolo 1 citato a memoria della costituzione del nostro paese per cui 80 anni fa ci sono stati morti per le strade e una guerra civile fra le più aspre che ci siano state nella storia dell'europa e del mondo la sovranità appartiene al popolo indi populismo e sovranismo lo dico per tutti quelli che poi mi ci appioppano quel titolo e lo appioppano a noi la sovranità appartiene al popolo siamo populisti perché siamo per il popolo siamo sovranisti perché vogliamo la sovranità siamo il popolo lo dice la costituzione e va bene così però va bene così io gli dico lunga campagna elettorale lunga campagna elettorale due mesi e si vota e finalmente il popolo potrà dire chi cazzo deve governare il paese perché non lo deve decidere l'europa nella merkel né mario monti e i banchieri o bilderberg chi deve governare l'italia fino a prova contraria lo deve decidere il popolo con le elezioni se poi ci dite che c'è una dittatura e lo deve decidere bilderberg e i gruppi di potere le grandi banche a me sta anche bene purché lo diciate perché ad ogni azione corrisponde reazione uguale contraria a quel punto si guarda noi se ci sta bene oppure no però ce lo dovete dire perché se no se si fa la coglionella si fa finta che non sia così allora è un problema perché le parti devono essere certe siamo d'accordo terzo punto riduzione dell'attività di governo balla clamorosa direbbe un giurista perché il governo rimane in carica fino alle elezioni e può continuare la sua attività visto che ci sono già tutti i progetti tutti i piani tutte le azioni da dover compiere dunque capo dello stato di cosa stiamo parlando me lo dica io lo chiedo al presidente repubblica se mi ascolta ma tanto lui non mi ascolta sicuramente ma qualcuno che dirà ma come colombini ora ce l'ha anche con mattarella no io faccio le domande come qualsiasi persona minimamente intelligente con un po di conoscenza del diritto come lo io si fa e si deve fare vado avanti bisogna sconfiggere il virus ma cosa stai ma di cosa stiamo parlando presidente mattarella il virus non lo puoi sconfiggere il virus ci devi convivere come tutti i virus che sono nella popolazione italiana a partire dall'hiv a partire andare a raffreddore a tutto il resto ci convivi con il virus non lo puoi sconfiggere anche perché non c'è una lotta non c'è una battaglia si sta sempre a ragionare in termini di guerra vi rendete conto sempre con questi termini bellici dunque sconfiggere il virus di cosa ma soprattutto il punto 2 il punto dopo punto numero 5 che devo chiedere oppure esserne travolti 0,02 per cento della popolazione colpita da un'influenza morti nella media annua perché stanno morendo le morti di influenza e non sappiamo quanti muoiono di altre malattie io ricordo a tutti tutti quelli che mi ascoltano che ogni giorno in italia negli anni precedenti muoiono sono morti 2200 persone oggi abbiamo 437 morti e i giornali titolano impennata dei decessi chiudere i giornali ma va bene così soccombere al virus ma di cosa stiamo parlando me lo dica il presidente della repubblica perché io non capisco i dati che ci sa che noi abbiamo a disposizione 437 morti e 14.000 casi di influenza il 98,9 per cento della gente guarisce e non va in ospedale e ci sono migliaia di dottori che dicono non andate in ospedale curatevi a casa perché non avete nessun tipo di problema io non vedo a cosa dovremmo soccombere magari soccombiamo ai debiti ma quelli il presidente mattarella non li ha perché guadagna tanto e si può permettere quella bella capigliatura che lo distingue e che ce lo fa rispettare come uno dei capi di stato più eleganti e più blasé di tutto l'emisfero occidentale andiamo avanti governo e parlamento con attività ridotta non è vero il governo e il parlamento vanno avanti lo stesso c'hanno l'ordinaria amministrazione ma tanto il governo conti ha già provveduto a fare tutto ha fatto di pcm ha già tutto programmato c'è già lo stato d'emergenza fino a aprile quindi per cui dov'è il problema che attività ridotta il parlamento non vanno mica a casa continuano a lavorare a legiferare e stanno nel parlamento non vanno a casa dunque signor presidente forse si è sbagliato probabilmente forse non sa esattamente le cose no ma lei mattarella è quello che ha fatto mattarellum è quello che ha fatto anche il sistema elettorale dovrebbe sapere certe cose andiamo avanti il governo dovrà decidere sui licenziamenti che scadono a marzo indi per cui occorre un governo e non si può andare a votare no lo sapete da sei mesi che il 31 di marzo ci sono i licenziamenti non avete ancora deciso un cazzo per quale motivo abbiate pazienza non c'è niente da decidere un governo non decide tre giorni prima ma si sa in italia come quando si organizzano gli spettacoli si organizzano sempre una settimana prima perché tanto c'è sempre qualcuno che paga e che qui non paga più un cazzo di nessuno dunque signor presidente perché non dovremmo andare a votare perché dovremmo rinunciare all'esercizio più bello della democrazia cioè noi che decidiamo chi ci deve guidare soltanto sull'onda questa quest'onda di moralità per cui altrimenti i licenziamenti come facciamo perché il governo che decide dovrà decidere ora è sei mesi che lo sapete è come 12 mesi che va avanti sta burletta dovete decidere ora di che cosa ah no ma voi andate avanti di giorno in giorno è come il titanic che avanza nella nebbia a 22 nodi velocissimo ovviamente quella poi è un'altra storia che vi racconto arriviamo al punto numero 8 che voglio chiedere al capo dello stato se è sicuro delle cose che ha detto capo dello stato è sicuro è sicuro che negli altri paesi dove hanno votato si sono sono aumentati vertiginosamente i contagi e i morti perché guardi che mi risulta che il governo del portogallo si è anche risentito perché dopo le elezioni in portogallo i contagi e i morti sono dimezzati allora come si mette il portogallo che c'è l'ho detto oggi che c'è c'è il baccalabuono c'è l'aria c'è il vento dell'atlantico che succede ora il signor presidente della repubblica queste cose le ha dette ieri sera le ha dette davanti a un pubblico credo di qualche milione di persone non so quanti guardino la rai ma le ha dette indi di cosa cazzo stiamo parlando signor presidente io glielo chiedo per me non sono bugie le sto chiedendo spiegazioni ma qualcun altro mi ha detto che sono balle per non andare a votare perché se no cambia il parlamento la destra va al governo e non potete fare romano pro di presidente della repubblica al prossimo giro e probabilmente arriva qualcuno che gli viene anche in mente di uscire dall'europa attenzione a questo proposito un piccolo asterisco la signora giorgia meloni che era quella anti europa sovranista populista spacchiamo tutto con tutti i suoi seguaci che giustamente vanno le forza ci siamo queste cose che sapete tutti è entrata ufficialmente in una istituzione che si chiama aspen institute l'istituto aspen che è quello che la gruppa tutti i più grandi economisti mondiali fra cui mario monti fra cui enrico letta fra cui tremonti fra cui lo stesso draghi ovviamente c'è entrata giorgia meloni ora secondo voi biscaroidi che non siete altro pensate veramente che giorgia meloni prenda le gambe e si metta a fare la lotta contro l'europa come va promesso il problema che i voti l'ha presi e lei ora è arrivata nel club degli eletti dunque comunque a votare non ci si va perché c'è l'incarico a maro draghi fermi innanzitutto l'incarico c'è da vedere se trovi la maggioranza se t'approvano il governo e chi ci metti a governare tre punti e sotto i ostacoli ma sicuramente il senso di responsabilità perché l'italia deve andare avanti intanto oggi avete visto anche voi chiedo scusa anche un morto è abbastanza ma siccome sono morti col covid non me ne importa un cazzo lo dico tranquillamente 499 morti e il paese muore ve lo ricordate il motto di tre mesi fa che ci siamo scordati tutti se mi chiudi mi paghi siamo tutti zitti il figlio di dario fo Jacopo fo l'altra se l'ha detto io l'accompagnia teatrale a me i ristori uno sono arrivati certo perché sei un pdota a me ristori uno mi è arrivata un'altra mail una pec certificata dell'agenzia delle entrate dove prende tempo perché non c'hanno i soldi per pagarli però a Jacopo fo gli sono arrivati i soldi ma guarda strano ma guarda strano avete fatti i cazzi ozzi finora e poi dite che andrà tutto bene e ovviamente non bisogna andare a votare perché non bisogna andare a votare stasera vi spiego perché dico di andare a votare perché lo sapete è tutta la stessa merda e sono d'accordo con voi ve l'ho detto destra sinistra ma almeno se andiamo a votare e put a caso la destra va al governo questa destra questi partiti di destra che erano populisti erano contro l'europa così vediamo cosa fate così vediamo quando ci andate voi se le fate le cose che avete promesso perché se non le fate la merda l'abbiamo già vista i pidioti e i cinque stalle anzi approfitto andate a leggere l'autobiografia di Rocco Casalino perché credo che sia una bella lettura specialmente quando siete a cagare sul water è una bella cosa veramente io ho detto che il titolo doveva essere in età di carestia ogni buco è galleria quello doveva essere il titolo della biografia di Rocco Casalino è un mio copyright ovviamente il peggio l'abbiamo già visto ci pensi se ci va alla destra prende il potere in mano e dovranno fare quelle cose che ci hanno promesso che hanno promesso all'elettorato che magari ha votato a destra uscire dall'europa incazzamento con Bruxelles lì vi voglio vedere e allora voi direte ma che fai sei uno sfascista no io voglio che le parti politiche siano chiare non si può continuare a prendere per il culo i cittadini italiani e a dirgli non ti preoccupare votami che io faccio così poi arrivo lì faccio un po come cazzo mi pare perché tanto non lo posso fare poi vado anche nel gruppo Aspen e secondo com'è vado a Bilderbergs e vado a fare la grande perché perché tanto voi non capite i destini del mondo sono gestiti dalle grandi banche da grandi gruppi economici bene ce lo dovete dire vi eleggiamo e ce lo dite così sappiamo esattamente chi dobbiamo prendere a sputi acciaffate un popolo ha diritto ad autodeterminarsi un popolo ha diritto di scegliere questo dobbiamo pensare e questo è il messaggio che vi voglio dare stasera è per quello che vi ho detto meglio andare a votare almeno vediamo veramente anche l'altra parte quello che è disposta a fare e quello che non è disposta a fare così sappiamo esattamente tutto quello che è l'arco delle merda che abbiamo davanti perché altrimenti qualcuno si potrebbe illudere che siccome c'è il governo d'unità nazionale e ma tanto poi c'è la destra che quando poi arriva la destra mette tutto a posto lei non è è la stessa pasta hanno trovato i cinque stalle perché era andata a cattare non c'ava niente da perdere ora voglio vedere quel che succede e per quello che io dico dobbiamo andare al voto poi magari ci rimane mario draghi fa il governo e tutto il resto vedremo cosa farà mario draghi ma di mario draghi ve ne parlo in fondo intanto ho già detto in cima che non mi garba e v'ho detto chi è e lo sapete tutti chi è mario draghi però vi devo dire una cosa in fondo che rovescio il tavolo ve lo dio dopo intanto vi voglio semplicemente comunicare che migliaia di medici italiani stanno dicendo che le terapie negli ospedali erano sbagliate e molta gente morte poteva essere salvata non lo dice andrea colombini migliaia di medici indi per cui partiranno azioni legali e partiranno dei grandi cazzi ma questo l'avete capito oggi una farmacia mi hanno detto o colombini qui non si vende più una mascherina perché la gente viene e dice io ho sentito colombini e la mascherina non me la metto più bravi se voi state a distanza vi lavate le mani e siete sani ma che cazzo volete ma fatemi la cortesia io sto entrando in bar ristoranti e tutto il resto e mi chiedo gente che legge il giornale che non è sanificato gente che va al bancone che viene sanificato una volta ogni sette otto dieci clienti va bene così cosa di cosa stiamo parlando c'era un medico spagnolo l'ha fatto vedere in televisione con la mascherina con tutto il fumo che ci fumava dentro faccia vedere tutto il fumo che usciva ve lo posto quelle sono le cose che dovete vedere per farvi capire che ora siccome siamo sbordati nella pazzia nella follia più totale nella follia complessiva bisogna dire basta il problema è che da quello che mi dicono la gente comincia di basta ed è giusto così la gente sta uscendo oggi sempre più gente ho visto in giro bene nei bar nei ristoranti a pranzo fate bene andate in giro perché questo è il modo per dire no al modo più intelligente dagli stati uniti ovviamente avete visto anche voi vi ho postato quella quell'articolo ieri sera in inglese molti mi hanno chiesto ma che cazzo la di l'articolo ve lo dico io i repubblicani hanno chiesto ufficialmente in senato ma il presidente biden non è presente 11 giorni che non si fa vedere e non si sa dove è va bene così 11 giorni oggi hanno chiesto a presidente biden di chiarificare esattamente i rapporti fra lui la sua famiglia e la cina e qual è il rapporto fra l'amministrazione americana e il governo di pechino perché vogliono sapere esattamente le cose come se già non le sapessero perché trump gliela ha detta in 40 lingue ma ora la cosa viene fuori ufficialmente come del resto si stanno tutti preparando perché vorranno tentare di dare la secchiata di merda a trump con l'impeachment e non ce la faranno perché non ci hanno i numeri in senato lo sanno già tant'è che vogliono portare a testimoniare quel tizio con le corna che è andato a fare l'assalto alla cosa al campi d'oglio che si sa tutti che uno di antifa dunque uno anti trump è uno anti repubblicani ma va bene così tanto non gli va in porto e partita finisce quando arbitro fischia ve l'ho detto 80 volte lo vedete che è tutto fermo lo vedete che è una palude lo vedete che c'è la paura e non è una paura è una certezza che il presidente trump faccia un'amministrazione parallela e gli vadano dietro quasi metà degli stati americani a casa mia si chiama secessione ma non se ne può parlare come non si può parlare di molte altre cose che stanno succedendo per cui i soldati da washington non vanno via nessuno mi ha risposto nessuno mi ha detto ma che ti viene in mente di dire dei soldati chi è il comandante in capo dell'esercito americano è il presidente joe biden perché tiene 60 mila uomini 58 mila uomini a washington a occupare washington che sta succedendo negli stati uniti non lo sappiamo abbiamo così tanti cazzi noi a casa nostra che dobbiamo giustamente pensare a quelli se mi chiudi mi paghi i soldi non arrivano però il popolo italiano ha scelto l'altra strada non la strada della violenza l'avete vista vienna quella quella scena di vienna che vi ho postato l'altro giorno davanti alla stazzo per nel centro di vienna nel centro storico la gente è incazzata e la polizia è con la gente parigi copenhagen amsterdam londra berlino tutti tutti in israele perfino a tel aviv tutti incazzati e dei vaccini non si parla più che succede alla vaccinazione arriveranno i vaccini nuovi quelli che sono vari dall 8 per cento poi al 19 per cento poi al 29 per cento con la gente che mora a mazzi non è ci sono i dottori e quando i dottori parlano parlano le lauree e quando a me me lo dicono mille dottori mille medici incazzati dicono le terapie non vanno bene i vaccini non sono testati sono soltanto autorizzati nient'altro abbiate pazienza ma noi siamo nel giusto qualcuno mi ha accusato che di usare questa espressione siamo nel giusto di è con noi quel l'uomo per bene che vi dicevo l'altro giorno ebbene vi dico noi siamo nel giusto uno perché siamo un branco e ci ascoltiamo e ci condividiamo le idee secondo perché abbiamo capito che è una grande presa per il culo e stiamo reagendo terzo perché diciamo no quarto perché dove va uno si va veramente tutti ora vi chiudo con mario draghi perché c'è una bella notizia ah io ve la butto lì vedete voi prendete i fatti toglieteli impossibile quello che rimane pur improbabile è la verità o se mario draghi non fosse quello che si dice essere o quello che sembra ve lo ricordate cosa ha detto mario draghi un anno e mezzo fa quando fece quegli interventi contro l'europa dicendo che bisogna dare i soldi alla gente che bisogna dare i soldi al popolo perché il popolo altrimenti economicamente è strizzato o se mario draghi ipoteticamente fosse stato messo proprio a quel posto perché magari è d'accordo con qualcun altro e deve dare il colpo finale alla sua banca centrale europea guardate che non è fanta politica io non ci credo perché io credo soltanto a quello che vedo e credo ai fatti reali improbabili ma reali ma questa è una probabilità e vi dico non sto dando fiducia a mario draghi io ve l'ho detto voglio andare a votare perché perché voglio voglio che le parti siano chiare voglio che le parti siano ben delineate voglio che noi sappiamo bene chi abbiamo davanti perché ricordatevi fra un presidente come biden e che ne so una dittatura militare come quella del mianmar io preferisco la dittatura militare del mianmar almeno so chi ho davanti da quell'altra parte non lo so chi ho davanti voglio sapere la certezza di chi ho davanti e dunque vi prego vi prego e vi guardo negli occhi e ve lo dico siccome la realtà non è quella che sembra e siccome tutto quello che stiamo vivendo lo vedete ha fatto di tante realtà parallele è fatto di tanti scenari partita finisce quando l'arbitro fischia e le partite in corso sono tante molti di voi mi scrivono ma quando è che fischia perché non ce la faccio più dovete stringere i denti perché questo è il momento più grande della storia dell'umanità lo vedete che sta cambiando tutto ma soprattutto vedete che non vi danno le notizie sapete cosa vuol dire e lo sapete cosa vuol dire se invece sono costretti a dire che dei medici dicono che le terapie sono sbagliate che a casa si guarisce che so così tanti quei medici che ormai non li fermano più e questo è la nostra vittoria in questo sta il nostro trionfo anche quello dei medici anche quello dei magistrati che si stanno rivalendo perché sono incazzati perché uno come palamara li fa passare tutti da delinquenti bene è il rovescio della medaglia è la vendetta della gente onesta è incazzata e non occorre spaccare perché noi italiani non spacchiamo ma arriveremo anche a questo perché se insistono a fare questo ma siamo vicini alla fine arriveremo anche a questo e quello che vi dico credete Andrea partita finisce quando l'arbitro fischia e le partite sono tutte in gioco come vedete non ne va dritta una ultima cosa mi avete in tanti mandato quel documento del 2019 che diceva che mario draghi sarebbe rifinito alla guida del paese ancora per dare il colpo finale per i tecnocrati dell'europa certamente innanzitutto ci deve sempre andare a far presidente del consiglio e deve trovare la maggioranza poi quando ci va non vi preoccupate che se noi si dice no tu puoi fare il cazzo che gli pare sempre mario draghi è tanto l'avete visto anche voi enomo che fa tanto toccheranno gli statali e pensionati perché li dovranno toccare allora tutti andremo in strada la saremo finalmente tutti veramente uniti il branco non sarà un grande branco di leoni sarà un immenso branco di leoni e allora a quel punto vedremo che cosa faranno spareranno sulla folla in italia è stato fatto soltanto l'ultima volta nel 1898 di sparare sulla folla un l'anno più fatto perché poi sono successi dei gran casini a milano quando la gente protestava per il pane ragazzi datemi retta è per quello che bisogna andare a votare ve l'ho detto almeno sappiamo esattamente chi abbiamo davanti e le parti sono chiare ma non vi fidate fidatevi soltanto di voi stessi e del branco che abbiamo creato e se qualcuno vi dice allora te per chi voti no per chi voto non è un problema non è un problema perché perché tanto chiunque voto nei partiti soliti tutto andrà come deve andare innanzitutto andiamo alle elezioni e mandiamo a votare ma andiamo magari a governare quegli altri per vedere che cazzo fanno almeno troveremo tanti leoni anche fra quelli di destra che sono convinti e gli faremo vedere che sono stati presi per il culo anche loro tutto lì e il branco s'allarga e la comunità s'allarga perché questa è la cosa importante la comunità si allarga il branco s'allarga poi se il presidente della repubblica vuole rispondere agli otto quesiti su quegli otto punti che io chiamo punti ma realtà si chiamano balle perché si chiamano balle magari ci potrebbe fare anche un favore ma non lo vogliamo offendere perché il capo dello stato e figuriamoci se il capo dello stato anche se ha raccontato delle balle l'ha raccontata apposta non lo potrei mai credere ovviamente dunque vi ringrazio tutti perché ci siete e perché vi si sente perché vi fate sentire perché mi mandate messaggi e perché mi assistete ricordatevi tutto questo dipende da noi non pensate che andare a fare una manifestazione di piazza ci qualificherebbe ci qualifica molto di più fa comunità e condividere queste informazioni ricordatevi migliaia di medici stanno dicendo una cosa che fino a due mesi fa ve lo ricordo chi la diceva era messo a piccata un palo tipo me e dicevano che era una merda che era uno stronzo ora tutti zitti perché quando ci sono le lauree di mezzo di dottori laureati e tutto quanto non si può dire più nulla e io parlavo perché c'è un dottore in famiglia perché sennò sarei stato ovviamente zitto poiché parlo solo delle cose che conosco e soprattutto prendo i fatti tolgo l'impossibile quello che rimane pur improbabile è la verità ragazzi dove andiamo uno andiamo tutti datemi retta il presidente sta bene l'attentato pare che ci sia stato ma il presidente sta bene perché perché se lo volevano ammazzare o l'avessero potuto ammazzare l'avano già fatto fuori prima niente da fare il presidente non si ammazza e il presidente rimane il presidente e no perché siamo trampiani violenti e tutto il resto semplicemente perché crediamo in certi ideali che lui incarna e se qualcuno l'ha proposto per il premio nobel e oggi uno mi ha scritto sai ma d'altronde è un deputato dell'estonia figuriamoci ma lui l'hanno proposto giuseppe conto l'hanno proposto per fare i piani a rotoli a mergellina coso giget the bibitars l'hanno proposto per andare al port elisa stadio luca per per andare a vendere con i lupini se vuole andare ma credo che non lo prenderanno anche lì perché probabilmente non è buono manca a fare quello o se no eventualmente lo mandano al club all'aspen institute no quello quello ci va giorgia meloni ragazzi ci vediamo domani resistiamo perché se noi si resiste qui ve l'ho detto siamo imbattibili abbiamo già vinto credeteci guardate che la situazione è veramente metamorfica ciao ci vediamo domani viva tutti